no non ho voglia di andare a lavorare domani anch'io sarebbe pensa martedì che c'è Tekken King pensa solo a quello ah non so quanto riuscirò a giocare c'è di certo tento non può perché andate via la connessione mi è arrivata una granata in faccia stavo mirando con oltre il nulla proprio sì bella mira di ciò bravo bravissimo quanto faccio schifo con questa arma ritorno a dinastia bestiana sei da solo? sei anche morto ero da solo in tunnel in mezzo a tre due non sono ammazzati l'altro mi ha ammazzato sono in tre quindi bene ottime notizie cioè due non ce ne sono più ce ne sarà ancora uno uno è morto ah brucio uno è andato ce ne ha un altro dietro che sto evitando i proiettili scappa io non so come sono fuggito a quei quattro cinque che erano penso fossero quattro assist le tienirebbe non ho capito un cazzo le tieni che hai detto oh cazzo sono in due vabbè buona buona via via morti tutti no in B uno l'ho ammazzato ma ce ne erano altri due quanto fa ma perché? non li massacravo non è vero è meglio girare in branco e tutti insieme siete qui io sono da solo contro tu sei morto stronzo no sono morto anch'io un colpo mi ha fatto oh dove è il branco qui che si muove tutto insieme e stiamo perdendo non possiamo star perdendo no stiamo perdendo tutte le mappe ma che cazzo stavo usando quell'arma da vicino no ne ho ammazzato solo uno porco due ah sto immobile oh oh sono spawn al solito spawno davanti i nemici e neanche 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 ah ecco dove era ho cercato per mezz'ora eh devo riprendermi magari rubando una kill vieni qui no no oh cazzo bravo sono troppi ricarica sei proiettili oh cazzo togliti 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 ok meno male che l'ha fatta lui no non possiamo prendere emulsioni pesanti perché? eh vieni sono buggate io sono andando contro tre uno due tre dov'è l'altro? l'ho visto vieni qui bello vieni mi ha fatto una spallata no è una stretta vabbè te li ha date? si si perché c'era uno che laggava lì ah quello era un cadavere che stava cadendo male vabbè ma va a cagare che l'avevo preso stavolta succhiamelo in punta pistolero del cazzo dei miei stivali succhiamelo ancora col mitraglione ci starei in mezz'ora minimo comunque il mitraglione ci scommetto io si lo ammazza con una super oh che noia con quest'area da solo sta arrivando eh ecco ti aia che cazzo di danni mi hai fatto sarà stato un fucile a pompa pistola d'oro salta via no c'è il burrone morto adesso brimerebbe è brutto morire così eh ma giuro che pensavo ci fosse la rampa lì non è che l'ho fatta poche volte sta mappa ma almeno non gli ho fatto generare sfere vado io dov'è? porca cazzo è arrivato un pugno alla distruzione ho lo saperebbe porco dio ci ha arato quello che io ero in volo per accoltellarmi su a su a e sono già dall'altra parte non ci arriverò mai in tempo arrivo io e aro tutti dove è andato? ma smettete ho evitato la sub ammazzalo che dietro di te vabbè alleati scemi vai conquista cazzo però una bomba nuova da sparare merda l'ho bella niente prego attenzione 3-1 sapevo è morto è morto tranquillo e sei morto e forse gli avevo attaccato la granata buongiorno ma dov'è? porca troia mi fa barcollare troppo con la cazzo di fucilata troppo lo direbbe si uno che mi sta inseguendo vado io ovviamente eh lo sapevo ma sono andato apposta vai che gli... ma là c'è una granata ecco arriva morto bello e munizioni pesanti dove stai andando? vieni Rebbe vieni 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 Rebbe ma che non ce la farò mai sono andato apposta io portate le pigli tu che con quel mitraglione di solito fai una marea di uccisioni manca pochissimo per la super troppe gente troppa gente mi uccisi mi uccisi però sto morendo anch'io ho recuperato vita grazie granata del cazzo bella granata questa mi ha colpito proprio bene eh ho la super perché era bianco per un attimo B ecco cazzo pistola d'oro bella dai fammi rip non capisco perché ogni tanto non mi fa spawnare ah la V ho sentita un'altra super era un po' distante ma l'ho sentita porca troia quanti sono i B vabbè chi se ne frega bravo vieni proprio in faccia a me bravo due per uno che bella offerta che io ma che ci muoio per aver accoltellato che scemo vabbè che era finita guarda lui lì il primo di merda il primo di merda il primo di merda niente quelli talk 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 parlare talk